Noi già due settimane prima ci eravamo auto isolati, un po' perché avevamo capito la possibilità di un problema più grosso di quello che si stava delineando, un po' perché noi siamo sempre stati abituati. Fortunato Nicoletti ricorda così l'annuncio del primo caso di Covid-19 in Italia. Fortunato è il papà di Roberta, che tra poco compirà sei anni. Roberta è nata con una malattia rarissima, la displasia campomelica-campomelica. Il suo è l'unico caso diagnosticato in Italia. Nel mondo se ne contano meno di 10. Roberta ha un atracheo per la ventilazione e una PEG per la nutrizione. Ha bisogno di assistenza 24 ore su 24 e di continui esami e visite specialistiche. Ma di fronte ai rischi della pandemia, molti dei quali all'epoca totalmente ignoti e imprevedibili, i genitori di Roberta hanno dovuto rinunciare all'assistenza domiciliare, scegliendo di prendersi cura della propria bambina in modo quasi esclusivo. Non essendoci nei primi mesi, soprattutto, ma poi anche dopo, la possibilità di sorvegliare e monitorare sia le famiglie ma soprattutto gli operatori che girano per le famiglie, fanno la loro vita e quindi avrebbero potuto portare un virus potenzialmente letale in casa nostra, così come in casa di altre persone, abbiamo dovuto accordarci con l'ente dicendo che dobbiamo assolutamente ridurre l'assistenza. È un carico assistenziale per noi molto più grande, ma almeno riduciamo i rischi. Le ondate della pandemia si sono così alternate, dalla prima alla quarta, tra alti e bassi, ma Fortunato e sua moglie un sospiro di sollievo non l'hanno mai potuto tirare, nemmeno quando tutti gli altri andavano al mare, in discoteca e passeggiavano all'aperto senza mascherine. Cioè pian piano si è passati da accordi taciti a problemi dell'ente che ti diceva non c'è infermieri, non c'è operatori e per arrivare a gennaio, dove formalmente i paesi sono stati ridotti anche del 40-50% rispetto agli accessi, rispetto alle ore e con cariche assistenziali che sono diventate veramente insostenibili da parte delle famiglie, perché poi non solo c'è il carico assistenziale, ricordiamo che questo significa poi eventualmente lasciare i lavori, perché se non c'è l'assistenza a casa tu devi prenderti cura di tua figlia, quindi da un peso sanitario si aggrava da quello sociale, poi quello economico, è una spirale che poi praticamente non esce più. In questa spirale Fortunato si è dovuto comunque rimboccare le maniche ed affrontare continue emergenze personali nell'emergenza globale scatenata dal Covid-19. Il problema che ancora oggi tra l'altro succede è quello che sono stati riconvertiti talmente quasi tutti i reparti, così come le terapie intensive, che non solo non abbiamo potuto effettuare dei ricoveri, ma non abbiamo potuto effettuare neanche dei consulti tra virgolette di routine per le persone così normotipiche, ma che per Roberto, per bambini come Roberto, sono fondamentali, perché richiedono un posto in terapia intensiva piuttosto che in subintensiva, cosa che in queste quattro ondata, intervalli, è stato praticamente impossibile. Allo stesso modo era quasi impossibile ed è quasi impossibile ancora accedere con entrambi i genitori per un ricovero lungo, ad esempio. All'inizio non era possibile accedere neanche da parte di un caregiver, poi questa cosa qua è stata, diciamo, in qualche modo risolta, però accedere a un ricovero ad esempio di una settimana, di 10 giorni, di 24 ore, dove un caregiver deve stare, deve vivere in simbiosi con il proprio figlio, non è possibile farlo con una sola persona e quindi questo richiederebbe almeno il doppio genitore piuttosto che il doppio caregiver. Ancora oggi questo è molto complicato. Grazie a tutti.